Musica Buonasera e bentrovati alla prima edizione del 2015 del TG Sportivo di Caffè24 Un'edizione che non si apre nel migliore dei modi per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda lo sport padovano Per quanto riguarda la biancoscudati padova perché notizia di pochi minuti fa è arrivata la sentenza del giudice sportivo Riguardo quanto successo domenica scorsa a Valdagno, quanto successo sugli spalti dello Stadio dei Fiori Perché come sanno gli appassionati sono stati lanciati tre petardi, tre petardi che sono esplosi dietro la panchina dell'Alto Vicentino Il padova, la società biancoscudata era già stata diffidata per alcune intemperanze dei tifosi nelle precedenti trasferte Per cui questa volta non ha potuto scamparla e tutto sommato la sanzione non è nemmeno stata così pesante Il giudice sportivo ha deciso per una gara da disputarsi a porte chiuse per la biancoscudati padova La gara sarà la prossima in casa che il padova giocherà contro il Montebelluna il 18 di gennaio Per cui porte chiuse all'Euganio per Padova-Montebelluna, seconda giornata del girone di ritorno Più 2000 euro di multa per la società biancoscudata Un episodio, quello del lancio dei fumogeni che non è stato affatto gradito per usare un eufemismo dalla società Tanta la rabbia soprattutto dell'amministratore delegato Roberto Bonetto che si è spogato Proprio qui a Caffè24 domenica scorsa nel corso di D-Day Andiamo a vedere un estratto di un video che ha già fatto il giro del web Forse c'è qualcuno che sta rimando contro la biancoscudati padova Perché se noi vogliamo andare su, quindi vincere questo campionato Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, dell'aiuto dei tifosi ma dei tifosi veri Adesso forse non ci rendiamo conto che potremmo prendere due domeniche di squalifica Quindi due domeniche a porte chiuse Quindi vuol dire perdere magari 30 mila euro di incasse Abbiamo la campagna abbonamenti che sta partendo Può darsi che qualche tifoso dica ma perché mi devo abbonare se c'è due partite in meno che giochiamo Quindi questo potrebbe essere un danno da quantificare almeno in 40-50 mila euro E il danno d'immagine? Allora io dico non posso pensare che non si sappia chi commette queste atti incivili Ma non è questo il calcio che io e Bergamin vorremmo riportare a Padova Allora è possibile, è possibile, mi rivolgo a chi ha le capacità, ha le conoscenze che non si riescono A isolare questi tifosi, tra parentesi, imbecilli Ma avevamo 2000 persone, 2000 persone meravigliose E forse per 5-10 di questi, noi saremo, queste 1990 saranno costrette a pagarne le conseguenze Allo stadio voglio vedere i bambini, voglio vedere le famiglie, non voglio vedere gli esagitati Però diciamo dobbiamo lavorare per isolare queste persone Bisogna metterle da una parte, non si può continuare in questa maniera Perché se no rischiamo di perdere dei tifosi Il pubblico è meraviglioso, è stupendo, ci sono vicini e questo è uno sprone Ma proprio perché ci sono vicini, devono avere la capacità e ce la possono fare Perché sono convinto che sanno chi fa queste stupidaggine Per cui faccio un appello, se volete bene al calcio Padova Se volete aiutare Bergamin e Bonetto Dobbiamo, dobbiamo con la D maiuscola isolare questa gentaglia Per cortesia aiutatesi Tornando a parlare di calcio, sempre del calcio padovano Si è giocato proprio domenica scorsa, come abbiamo detto Il big match tra Alto Vicentino e Padova Il Padova ha rimediato la seconda sconfitta in campionato E' ancora in vetta alla classifica Però è solo a meno due, anzi a più due dall'Alto Vicentino Andiamo a vedere quelle che sono state le azioni salienti di Alto Vicentino-Padova Il big match dell'ultima giornata del girone d'andata In Serie D si gioca allo Stadio dei Fiori di Valdagno Vede protagonista la capolista Padova seguita da più di 2000 tifosi E' il secondo in classifica che è l'Alto Vicentino Padrone di casa, parte subito fortissimo il Padova C'è quest'azione dopo calcio d'angolo Il tiro di Mazzocco viene deviato E' un Padova che gioca molto bene nei primi minuti del primo tempo Qua Cunico chiede il rigore La spinta sembrava netta L'arbitro però fa proseguire Rivediamo, c'è stato il difensore Si è appoggiato su Cunico L'arbitro lascia ancora proseguire Il cross ancora del capitano Non ci arriva nessuno ma è solo Padova Cunico dalla sinistra Ferretti chiede il rigore anche lui E qua allarga il braccio Ma l'arbitro lascia ancora proseguire Ancora Padova Ancora Cunico con la punta La palla però termina fuori Mattin schierato in campo Visto il bisogno di under Trova Ferretti che si gira con il desto E' bravo di Filippo a deviare in angolo Sembra che il Padova possa sbloccare la sfida Ma al 31esimo questo errore di Degrassi Spiana la strada per Peluso Il destro del capocannoniere Dell'Alto Vicentino è perfetto E a sorpresa Al 31esimo minuto i padroni di casa Si portano in vantaggio E' festa grandissima Allo stadio dei fiori di Valdagno Il Padova prova in tutti i modi A recuperare lo svantaggio Già nel primo tempo Mazzocco si dimostra ancora pericoloso Questo tiro è parato da Di Filippo Sicuramente uno dei migliori in campo Per l'Alto Vicentino Poi prova la girata a Cunico La palla termina fuori Attenzione però perché chiede un rigore Anche l'Alto Vicentino Proprio allo scadere del primo tempo Qui c'è il tocco di mano di Nicolini Forse però era fuori area Difensore biancoscudato Si arriva nella ripresa Il Padova preme Aumenta anche la pressione offensiva Ha parlato Colpo di testa di Ferretti Deve parare il portiere E' entrato anche Petrilli Il più pericoloso però è Sentinelli Che qui becca la traversa E' sfortunato anche il Padova Deve stare attento però alle ripartenze L'Alto Vicentino Qua c'è il tiro di Peluso Parato da Ciccioni Ancora Alto Vicentino Questa mischia in area Dai brividi Ai tifosi biancoscudati I tifosi biancoscudati Che vogliono il pareggio Ed è ancora il Padova Che attacca Testa bassa Il cross Il colpo di testa di Ferretti La palla arriva a Mattini Il destro è precisissimo Ma ancora Il portiere De Filippo De via in angolo All'Alto Vicentino Che si fa pericoloso La palla da fermo Qua la punizione Dal dosso Sfiora la traversa Ancora Padova Si gira Cunico Ma De Filippo Sembra avere Un conto aperto Con il capitano Biancoscudato Ancora qui Il portiere De Filippo Protagonista Sempre su Cunico Si arriva al quarto minuto Di recupero Del secondo tempo Ma c'è ancora Una parata è di Filippo E quindi Finisce così L'Alto Vicentino Batte 1-0 Il Padova E riapre il campionato Portandosi a meno due Dalla vetta Occupata però Sempre dalla formazione Biancoscudata Di Carmine Parlato E non è stato Un grande inizio Di 2015 Nemmeno per quanto riguarda Il calcio a 5 La Luparense Calcio a 5 Campione d'Italia Non sta vivendo Un buon momento La squadra di Patron Zarattini Ci spiega tutto Francesco Cocchiglia È stato un inizio d'anno Tormentato Per la Luparense Calcio a 5 Perché nonostante Secondo posto in campionato La squadra di San Martino Ha fallito sotto le feste Il terzo obiettivo Stagionale su tre Dopo aver salutato Anzitempo la Futsal Cup Champions League Del Caccio a 5 I Lupi hanno visto Soffiarsi la Supercoppa Italiana da sotto il naso E una settimana fa Ancora una volta in casa È stato il caos A decretare l'uscita Della squadra di Fernandez Dalla Winter Cup Solo ai quarti di finale Un passivo pesante 5 gol sul groppone Nonostante il vantaggio All'intervallo E le certezze Dei campioni d'Italia A sgretolarsi Sempre di più Tristemente Siamo fuori Della Winter Cup Per un secondo tempo Un po' Io dico Descoordinati Non desordenati Sino Descoordinati Perché noi Volevamo fare Tante cose Che alla fine Nella solita giocata Che alla fine Non siamo riusciti A fare una bene Credo che loro Hanno approfittato bene Le sue opportunità Noi non ci siamo Non abbiamo sfruttato Questo vantaggio Dopo un bel primo tempo Siamo calati un po' Sul secondo Sul secondo Credo che ha mancato Questa continuità Che ha mancato Contra Contra Aguasapone E che ha mancato Contra Contrasti Tutto qua Manca Io credo che Psicologicamente Sempre che Durante la gara Il fare l'approccio A finale A finale De partita Fa fatica Perché non riusciamo A gestire bene Il finale De partite Ovviamente Il massimo responsabile Di questo Sono io Perché sono un responsabile Tecnico Da squadra Io assumo la culpa Perché i ragazzi Si hanno fatto Quello che hanno fatto Vuol dire che Io ho lavorato Qualcosa male Questo è ovvio Non è inutile Nasconderlo Nel prossimo weekend Riprende il campionato Con i lupi impegnati Ancora Bassano Dove arriverà Latina penultimo In classifica Un'occasione Per rifarsi subito Sarà l'ennesima condanna Di una stagione Per darvi dell'attenzione E darvi appuntamento A domani Sempre alle 19.40 Con il Tg sportivo Di Caffè24 Vi lascio ai programmi Della rete Grazie a tutti E buon proseguimento Di serata Grazie a tutti